Adesso vi devo dire che ci sono importanti novità anche sul caso di Caronia. Oggi c'è l'esame dei frammenti ossei del piccolo Daniele e poi venerdì invece ci saranno operazioni sul traliccio per cercare di capire se anche lì ci sono tracce biologiche. Intanto vi devo dire che ancora una volta il papà Daniele Mondello in un'altra intervista chiede ancora la verità. La verità su quello che è accaduto a Viviana e al suo Gioele. Guardate ancora con la nostra Saraverta. Viviana perché secondo lei ha lasciato la sede stradale? Bisogna vedere quello che è successo, cosa gli hanno detto, gli operai, tante cose. Bisogna vedere come si sono comportati, quello dobbiamo valutare. Ha mai parlato con questi operai del furgone? No, non l'ho cercato mai, ma perché a parte che non si fanno vedere che lo sappiano i giornalisti che l'hanno chiamato, non vogliono parlare con nessuno, quindi non lo vogliono cercare mai. Faccio anche allora un appello che se vogliono parlare e dire la verità, cosa è successo, mi sarei veramente grave. Lei sa se quel giorno già c'erano i berilli come adesso? Guarda, io ho un amico che fa quella tratta Messina-Palermo quasi ogni giorno e lui mi diceva che già da giugno c'erano dei berilli in autostrada, stiamo intagando. Stiamo verificando con i nostri avvocati e vediamo cosa esce fuori. Sulla collina di Caronia sembra che ci fossero degli operai per la raccolta del sughero, giusto? Sì, abbiamo la conferma che c'erano o sei o sette operai che lavoravano là, quindi faccio un appello a loro se hanno visto qualcosa, di farci sapere, perché veramente lei è passata da là, quindi per forza hanno visto qualcosa. Mi rivolgo anche ai signori che hanno le fattorie, B&B e tutto il resto, che se hanno visto qualcosa, di farci sapere al più presto. Lei ogni volta segue queste prove, ha notizie di questi esami, per esempio quello sul DNA? Guarda, i miei avvocati hanno fatto la richiesta il 16 settembre, fino ad oggi non abbiamo nessuna notizia, quindi non sappiamo niente. Torneremo su Caronia perché ci saranno novità dagli esami che vengono condotti in queste ore sul corpo del piccolo Gioele. E... E...